E' un capito di ragazzi, benvenuti in questo nuovo video dedicati ragazzi al nuovissimo incarico Omega settimana numero 2 sperando che abbiamo fatto soluzioni per noi andiamo a trovare un po' il funzionario e ritorneremo appunto in ultimo, siamo appunto a stretto subito e troveremo proprio il primissimo fighting e' un po' lo andiamo a prendere, per lo guagnarlo, e vediamo, il vettore a scale livelli, vc lo stai con giuristi ragazzi, dunque andiamo ora a vedere l'altro, che si prova esattamente, vediamo un po', vediamo un po', un po' di attuare, bene, cosa attuare ragazzi ci vediamo nel prossimo video Paralike, a tra poco